Tenta di rubare una bici ad un extra comunitario e viene fermato dal sindaco. E' quanto accaduto ad Eboli dove il sindaco Cariello ha scongiurato un furto bloccando un giovane del posto che stava rubando una bicicletta in piazza della Repubblica. A notarlo il proprietario del mezzo che lo ha rincorso chiedendogli di lasciare la sua bici. Da qui è nato un alterco sedato dal primo cittadino che si trovava in zona. Il sindaco ha riportato alla ragione il giovane bloccandolo in attesa dell'arrivo dei carabinieri che hanno condotto il ragazzo in caserma per le formalità di rito.